Pensare, lavorare, organizzare, pianificare, disobbedire. Club Vacanze. Colora la vita. Toyota Corolla Clima 99. Provate la differenza. Anche sabato 16 e domenica 17. Con Campari Soda puoi vincere 100 milioni da spendere in 24 ore. Ce la farai? Campari Soda. Bastano 5 tappi per un giorno in partice. In pochi secondi... Il signor Zewitz le abbia consegnato del materiale riservato. Che genere di materiale? Un cittadino qualunque... Il bersaglio si muove! ...può diventare un ricercato. Will Smith. Gene Hackman. Ditegli di smetterla! Nemico pubblico. Sto andando a casa. Sto andando a casa. I'm going home. I'm going home. Art! Ma non lo vede che zona pedonale. Favorisca potente il libretto, forse. Excuse me, sir, but I can understand you. Ma che è un turista? Yes, I'm English, London. Sì, sì, ma dove va? Coliseum. No, è fuoristrada. Per la prima volta in Italia, l'inglese today, il metodo internazionale più moderno, facile e interattivo. In edicolo alla prima uscita, solo è 1000 lire. Vada, vada. Thank you, thousand. Sì, è 50,000. Per liberare i bronchi dal catargo, sinecod tosse fluidificante. La tosse grassa finisce qui. E invece, contro la tosse secca, sinecod tosse sedativo. Sono dai medicinali leggere attentamente i foglietti illustrativi. Se la tosse persiste, consultare il medico. Lovers, they may cause you tears. Go ahead, release your fears. Stand up and be counted. Don't be ashamed to cry. You gotta be, you gotta be bad, you gotta be bold, you gotta be wiser. You gotta be hard, you gotta be tough, you gotta be stronger. You gotta be cool, you gotta be calm, you gotta stay together. All I know, all I know, love will save the day. Nuova enciclopedia di modellismo ferroviario. Per scoprire tutti i segreti di un hobby affascinante e realizzare fantastici plastici. Con la prima uscita, in maggio, la prima parte della stazione da montare. Nuova enciclopedia di modellismo ferroviario in edicola da Hobby & Work. Rai 2 presenta... In prima visione, un evento. Le vicende comuni e straordinarie di quando tutti eravamo eroi. Un giorno dopo l'altro scorre la vita. Anno dopo anno, diventa storia. Diventeremo ricchi. Diventeremo migliori. Una grande produzione italiana. Quattro puntate in prima visione. La vita che verrà. Questa sera, 20.50, Rai 2. Vi aspetto su Rai 2 con il nuovo furore. Nuovi giochi, nuovi ospiti, nuovi concorrenti, nuove canzoni, nuovo studio, nuovo orchestra, nuovo balletto. Insomma, un furore tutto nuovo. Furore. Venerdì, 20.50, Rai 2. Nissan presenta Micramatic. L'automatica in città fa felice il mio papà. Ha lo scatto più brillante e brucia poco carburante. Chi prova Micramatic non cambia mai. È arrivata Micramatic. Completa di servo sterzo, motori a 16 valvole e tre anni di garanzia. Con il cambio automatico al prezzo del manuale. Micramatic. La simpatia è automatica. E con la rotamazione Nissan Micra da 15.400.000 lire. Un milione di italiani è già passato al verde. E tu, Infostrada, la nuova compagnia telefonica degli italiani. Chiama l'1-5-5. Allora, mi riesco in pista. Noi romagnoli ci diamo i booster super free di avadori. Di pollo o di suino. Senza poliposfagli aggiunti. A che... Se contro la tosse secca si racconda tosse sedativo. Sono dai medicinali leggere attentamente i foglietti illustrativi. Se la tosse persiste consultare il medico. Rai 2 presenta... In prima visione, un evento. Le vicende comuni e straordinarie di quando tutti eravamo eroi. Un giorno dopo l'altro scorre la vita. Anno dopo anno, diventa storia. Diventeremo ricchi. Diventeremo migliori. Una grande produzione italiana. Quattro puntate in prima visione. La vita che verrà. Domani, 20.50. Rai 2. Il sabato di Rai 2 è nel segno del giallo. Tu come ti chiami? Maggie. Usava il suo fascino per sedurre e derubare uomini facoltosi. Ma qualcuno finì per sedurre lei. Quello che c'è tra me e te sono solo affari. La nostra è una relazione. Sapevi che è della PIA? Te l'ha detto questo. Scum. Una prova per Maggie. Sabato, 20.50. Rai 2.